Dunque, io vengo da Caravaggio normalmente, lo sapete tutti, e da ragazzo, quando andavo a scuola a Treviglio, vedevo sempre da lontano queste montagne su questa città, che per me era un punto d'arrivo, bisognava arrivare a questa città. Ci sono arrivato un po' dopo e l'ho accostata con la fotografia. Per me Bergamo allora è stata una scoperta molto importante e mi ha fatto capire tante cose anche dell'Italia, dei vecchi borghi, delle vecchie costruzioni, certe vie straordinarie e poi la vita soprattutto della gente di allora, che non è la vita di oggi evidentemente. Una vita, diciamo, tranquilla nell'indigenza. Cioè, allora dappertutto, meno in certi palazzi, ma dappertutto c'era una, diciamo, un tono di vita che era alla portata di tutti. Cioè, tutti avevano il pane da mangiare, più o meno. E la vita, la vita vera era quella, insomma. Gente che andava a lavorare, gente che doveva portare a casa lo stipendio per mantenere i figli e questa era la vita che si svolgeva naturalmente nella città, ma soprattutto anche nelle campagne circostanti. Perché quando io dico Bergamo dico anche, per esempio, il maglio di Calanezzo, dico queste cose che erano legate, diciamo, alla vita economica da loro, si dice. E quindi, per me, Bergamo è stato l'inizio di tutto il mio lavoro che poi ho fatto in Italia e ho ingrandito. Mi vengono a memoria certi scatti che sono restati impressi in me, per esempio, la fotografia che ho fatto al Papa Paolo VI, dopo che mi ero nascosto in un cespuglio del giardino, di Castel Gandolfo, perché il segretario mi aveva detto, lei stia qui, non si faccia vedere. E infatti mi sono messo nel cespuglio e sul piovelo esce il Papa e dice, Merisio, venga fuori. E io dovevo andare fuori dal cespuglio, poi l'ho fotografato. Naturalmente lui si è prestato molto gentilmente, perché aveva un carattere unico. Grazie.